Come realizzare un ottimo podcast mixato come si deve? Ne parliamo subito dopo la sigla, ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. Un podcast mixato, un mixato, un radio show, chiamatelo come vi fare, il concetto è quello. Una sequenza mixata, preparata o al computer o registrata per far sentire quello che si fa online o mandarlo a chi di dovere o anche portarlo fisicamente. In ogni caso, qualunque sia il concetto, ci sono alcune caratteristiche da tenere in considerazione per realizzare un prodotto come si deve e che sia efficace per quello che ci si vuole proporre. Innanzitutto è bene avere un obiettivo chiaro. Per cosa lo faccio questo mixato? Lo faccio per metterlo sui miei social, per far sentire quello che faccio, per trovare delle serate, per cercare di far crescere il mio pubblico? Qualunque sia l'obiettivo è bene chiaro averlo in mente perché cambiano le caratteristiche di questo podcast. Ci può essere una sigla, ci possono essere delle voci o può essere semplicemente un'ora più o meno di musica. Però innanzitutto chiariamo qual è l'obiettivo. Poi quando uno ha un profilo online come può essere su Mixcloud o su Soundcloud oppure anche su YouTube, al di là dei problemi con il copyright, poi dopo si può utilizzare lo stesso link o lo stesso prodotto, lo stesso file per altri utilizzi. Perché in qualche modo rappresenti il nostro stile o semplicemente per mettere insieme un po' di musica di un genere specifico. Ecco che passiamo al punto successivo, molto importante. È bene avere chiaro il genere di cui si tratta. Che tipo di musica si vuole mettere insieme o anche che tipo di andamento. Perché se si vuole rappresentare una serata ci possono anche essere più generi nello stesso mix. Però ci deve essere a questo punto una sequenza logica, un crescendo, un qualcosa che identifichi il nostro modo di intendere la serata. Molto spesso ricevo dei mix, anzi se hai qualcosa da farmi sentire mi fa anche molto piacere. Quindi scrivimi, mandami un messaggio, mi puoi cercare su Instagram, su YouTube, su Facebook. Mi fa piacere sentire quello che fai e anche darti la mia opinione in merito. Comunque di quelli che sto ricevendo fino adesso ci sono le cose più diverse. E ho trovato molto spesso una confusione sia di generi che di obiettivi. Bisognerebbe cercare di evitare un andamento ondivago nel quale il pezzo successivo è più scarico di quello precedente. Poi dopo si ridà un'accelerata eccetera. Questo è molto negativo, soprattutto dal punto di vista di chi ascolta, perché denota una certa confusione. Che poi può essere anche negativa nell'affrontare anche una serata, di qualunque genere si stia parlando. Anche se ci sono più generi diversi, devono essere messi in fila in maniera coerente. Un passo ancora principale, prima di tutto, la qualità del mixato. La qualità audio, inizialmente. Se apro un file e vedo una forma d'onda strana dal SoundCloud o quello che è, difficilmente sono attratto dall'attenzione e difficilmente posso trovare piacere nell'ascoltare quello che è davanti. Quindi il suono deve essere bello, registrato bene e magari editato correttamente. Per esempio un limiter prima dell'export può non far male e soprattutto ci deve essere un andamento costante. Meglio se tutto abbastanza lineare. Però se anche ci fosse una specie di crescendo, che in un mix magari fatto al computer non ha troppo senso, comunque che sia qualcosa di uniforme. E' importante la qualità dei passaggi. Sia che sia registrato dal vivo, o sia che sia editato su un software qualsiasi. La prima cosa che salta all'attenzione, sia se si fa ascoltare a un DJ, ma anche se si fa ascoltare ad un utente qualsiasi, è la qualità dei passaggi. E il passaggio deve essere quanto più pulito e preciso possibile. Soprattutto all'inizio, perché se sbaglio il primo passaggio, magari la persona tende a schippare subito e cercare qualcos'altro. Siamo di fronte ad un mercato completamente saturo. Ci sono migliaia di ore e ore di musica. E allora è bene che la nostra ora o quello che è di musica sia quanto più possibile ben fatta, perché la tentazione di andare oltre è sempre molto forte. Se mai ci sarà un podcast di essere DJ oggi, anzi, penso proprio che ci sarà, difficilmente sarà di sola musica. Appunto per questo motivo, perché ce n'è già migliaia, milioni di ore. Tutti i grandi nomi lo fanno, tutti quelli che suonano cercano di farsi sentire in qualche modo, è veramente tutto molto congestionato. Quindi vorrei fare qualcosa che non si riduca alla semplice ora di musica, ma magari si possa introdurre delle parole e anche alcuni di questi concetti di cui parlo nei video, spiegati in maniera anche più approfondita, oppure mettendo insieme vari argomenti. Perché appunto la musica così semplice è veramente pieno, qualsiasi tipo di portale, social, servizio di streaming e quant'altro. È bene riuscire ad essere efficaci. Meglio 40 minuti fatti bene che un'ora e 20 strascicata. Meglio avere 10 dischi buoni che 15 di cui 3 o 4 mezzo e mezzo. Proprio perché c'è tantissima musica, è molto meglio riuscire ad essere un po' più diretti e di evitare qualsiasi tipo di distrazione possibile da parte di chi ascolta. Nessuno ha tempo di sentirti due ore di mixato, nessuno si ascolta completamente tutti i mixati di due ore, neanche dei programmi più famosi, e quindi è bene cercare di essere essenziali. E un'ultima cosa molto importante, se avvii un podcast, un programma radio, quello che è anche un appuntamento di un mixato, ci deve essere regolarità e continuità. Io ammiro da tantissimo tempo il Release Yourself Radio Show di Roger Sanchez, che sono più di 10 anni che tutte le settimane, rigorosamente tutte le settimane, esce con il mix nuovo, nel mentre è affrontato vari periodi, un periodo era su SoundCloud, poi si è spostato su MixCloud, ora la Repubblica è anche su SoundCloud. Prima non c'era SoundCloud e MixCloud, era soltanto nelle radio e nei siti delle radio. Oppure, per esempio, completamente un altro genere, State of Trends di Armin Van Buren, che ha superato le 600 puntate, al di là del grande evento che c'è dietro, però è comunque un appuntamento fisso, rigorosamente tutte le settimane. È normale, i grandissimi nomi sono anche pagati per farlo, hanno anche persone pagate per seguire tutto questo. Però anche nel nostro caso, se si avvia un programma, è bene dare fin da subito regolarità e continuità. Per esempio, il periodo in cui io collaboravo con una radio inglese, mi sono preparato in modo da essere preciso per un anno intero, quindi ho realizzato un podcast, e ero in grado di consegnarlo precisamente nel giorno stabilito, entro l'ora stabilita. Nel mentre vedevo continuamente i colleghi che lanciavano, chi con la locandina bellina, tutta la grafichina, le tracce, eccetera, il nuovo podcast 001, dopo tre settimane gli passava la voglia, e dopo un altro mese magari nuova grafica, nuova foto, tutti bellini, bellini, e però, completamente un altro genere, un altro stile. La cosa da evitare, come per qualsiasi appuntamento online, è di partire subito con un grande entusiasmo, e poi scemare piano piano. Quando partirà il podcast di Essere DJ Oggi, sarò sicuro di mantenerlo, almeno per un anno, in modo anche da valutare i risultati, apporre correttivi, e riuscire ad essere sempre più efficace. Fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere anche se ti interesserebbe, seguire un podcast di questo canale, su tutti i vari portali possibili, da Spotify, Spreker, iTunes, e quant'altro, e soprattutto fammi sapere cosa ne pensi, nei commenti, e come realizzi il tuo mixato. Nel frattempo, continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Alla prossima!